Anche ieri qui a lavorare fino alle 10 e stamattina non riuscivo a svegliarmi e ho dovuto prendermi tre caffè. Eh dai. Senti, ho tante cose a fare. Devo scoppare. In che senso, scusa? Scoppare per andare via subito. Ah, scappare, non scopare. Tu volevi dire scappare. Quindi, cosa vuol dire scopare? Scopare è quando un uomo e una donna insieme per fare quella cosa. E là, scoppiamo a tre cinque minuti, no? Non bisogna scoppare. Ciao. Vabbè, non scoppiamo. Dai, scoppiamo subito. Chiamami più tardi, sto scoppando adesso. Devo scoppare. Chi viene con me? Oh, cavolo. Scoppare. Scoppare. Ok. Bravo.